Sindaco, partiamo dalla manifestazione di questa mattina nel suo paese a Casa Canditella. I suoi colleghi le sono solidari? Certamente, è partito tutto da parecchio, volevano fare la manifestazione perché oramai sono sette mesi che sto in questo limbo, quindi non so se fare il sindaco o non fare il sindaco. Quindi sia i cittadini che i colleghi sindaci hanno voluto fare questa manifestazione, visto lo strigione rivolgiamo il nostro sindaco, mi hanno mandato delle foto, adesso stanno facendo la manifestazione, io purtroppo sto qua, c'è la sedia vuota con la mia fascia e quindi spero che qualcuno prenda iniziativa, capisca quello che stanno facendo, quello che mi stanno facendo, c'è una situazione alquanto impossibile, fare il sindaco ma avere il divieto di dimora nel proprio comune. Come si gestisce un comune a distanza? Con l'aiuto dei consiglieri comunali, degli assessori, del vice sindaco, con l'aiuto di tutti, quindi siamo costantemente in contatto, vengono a casa, mi vengono a trovare i documenti da firmare e quant'altro. Che idea si è fatta di questa indagine? L'idea me la sono fatta subito, c'è un qualcosa che non ha senso, non c'è reato, perché se andiamo a vedere le 8.750 euro precise, sono contributi che questa ditta, ma la ditta direttamente al Comitato Festo non ha dato niente, i soldi sono arrivati da una fondazione ONLUS del Vaticano, quindi di conseguenza ci sono dichiarazioni delle persone che hanno ricevuto questi soldi per la festa, sono stati spesi per la festa o per l'edicola di Sant'Anna a Semivigoli, quindi il reato non c'è. Io di fatti ho ribadito al GIP nel primo interrogatorio che qualora fossi stato complice, quantomeno questa ditta che dice di aver dato i soldi ma l'ha dati, ripeto, alla ONLUS, a noi sono arrivati tramite la ONLUS, avrebbe vinto qualche gara a Casa Canditella. Su 15 gare fatte dalla CUC, poi spiegherò pure questa CUC, questa ditta non ha vinto un appalto, anzi è stata invitata una sola volta. Tengo a precisare che non è l'Unione dei Comuni che fa la gara, ma è la centrale unica di committenza, dove Casa Canditella e Capofila e gli altri comuni partecipano, ma la CUC è stata fatta perché è voluta dalla legge. Quindi l'Unione dei Comuni delle Colline Teatine non c'entra assolutamente niente in questa storia e molto probabilmente, d'accordo con i colleghi sindaci, faremo anche un'azione per risarcimento d'anni per l'immagine. In questi sette mesi ha pensato a dimettersi? Assolutamente no, forse quando dimostrerò la mia innocenza allora potrò anche dimettermi, ma oggi sto lottando, sto tenendo duro, sto soffrendo chiaramente, perché comunque essere arrestato, essere bloccato a casa per i domiciliari e comunque sono stato trattato sempre come un delinquente, forse i delinquenti vengono trattati un po' meglio, portati in questura, a foto segnaletiche e impronte digitali. E poi l'ultimo dramma, i due drammi sono questi per me, essere cacciato da casa Canditella dopo 60 anni, allora sinceramente sto male, internamente sto male, però lotterò fino alla fine.